Vieni, occupati delle sentinelle. In silenzio, se vuoi. Non mi piace. Non mi piace per niente. Credi che sia qualcosa di serio? Sembrerebbe. Resteremo qui almeno fino a sera. È sempre così da queste parti? No, quasi mai. Per questo non mi piace. Piano e furtivi. Hanno un'intera squadra qui. Un convoglio di sicurezza, forse. Ok, è un po' più difficile di quanto pensassimo. I loro sistemi avranno rilevato vibrazioni sotto l'edificio quando abbiamo scavato. Sono tutti in allerta. Il che significa che siamo tagliati fuori da tutti i passaggi. Come topi in trappola. Dove siamo esattamente? Al livello dei servizi, ed è qui che resteremo se non disattiviamo la sicurezza. Il Mikoshi? È ancora lontano? No, i laboratori sono nel prossimo settore, ma prima dobbiamo arrivarci. Ci sono dei punti d'accesso. Me ne serve uno subito. Sto cercando un secondo. Ne ho uno, non è lontano. Potrei collegarti da lì. Ok, spero che ci sia una porta anche per lo shard di alta. Ti invio la strada più breve, ma prima dobbiamo annullare l'isolamento. Restate nascosti. Nessuno deve sapere della nostra visita. Codice rosso attivato. Tutto il personale rimanga dove si trova fino all'interruzione dell'isolamento. Sto cercando un'interruzione dell'isolamento. Ok. Sono qui. All'arma, intrusione! Intrusione! Sto cercando un'interruzione dell'isolamento. Quantomamista! Sto cercando un'interruzione! Grazie a tutti. 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 Sì, cazzo. Va bene. Vieni fuori. Ok, sono qui. Alt, lo shard è dentro. Sì. Quanto tempo ti serve? Già fatto. Sì, cazzo. Ha funzionato. Quindi possiamo proseguire per i Mikoshi. La strada è aperta. Grazie, Alt. Ne sei sicuro? Anche a posto? Andiamo allora. Andiamo allora. Andiamo. Andiamo. Occhio! V. Sol. Lo sento anch'io. C'è qualcosa che non va. È il silenzio. Nessun altro ha i brividi. Vi è successo qualcosa. Lo scopriremo presto. Siamo sotto attacco! Siamo sotto attacco! Forse ci siamo. Ce l'abbiamo fatta. Solo pochi passi ti separano dal Mikoshi. Sembra che finalmente avrai la tua occasione. Siamo con te fino alla fine. E al decaldo mantengono sempre la parola. Non puoi fare tutto la mano. Oh, merdo! Puoi farcela. Cazzo. Salve, cazzo! Prezzata! Cazzo. Interessante. Non muore! сумma. Cazzo! Ah! Ahahahah! Visto da però il cervello d'alternato! Sei costruito, me desista! T'ASA Visto da! T'ESA IMPORTANT Visto da! Visto! 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Qualcosa che tu non capirai mai. Me la caverò? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. no, 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 no Mi hai bombardato con il Soulkiller, senza dirne! Era l'unico modo per ottenere quello che volevi. Porca puttana! Potevi almeno avvertirmi! Sei un costrutto da pochi minuti e già nessuno frega un cazzo del tuo parere. Benvenuto nel club, V. Ehi, un momento. Voglio sapere che cazzo mi è successo. Di preciso. Ho applicato il Soulkiller per separare le vostre menti, creando quindi il costrutto distinto di V. Un protocollo analgesico aggiuntivo ha inibito la percezione del dolore. Non ho potuto eliminare tutte le modifiche apportate dall'incursione e dalla sovrascrittura di Johnny, ma l'integrità dell'engramma di V resta alta. Significa che puoi ritrasferire la sua psiche nel suo cervello? Sì, come su una partizione nuova, vergine. Voi due volete ancora distruggere il Mikoshi? Ah, deve bruciare. E tutti i prigionieri lì dentro? Li libererò e li porterò con me. Stronzate. Li assorbirai come tanti piccoli frammenti di codice e diventeranno parte di te. Come se potessero sperare in qualcosa di meglio. Andiamo. Allora, è davvero finita? Hai mantenuto la tua parola? C'è un solo aspetto di cui non ho tenuto conto. Alt. Cosa? Il corpo come fattore chiave di questa transizione. La riconfigurazione del DNA del Relic progredita troppo. Oltre alle cure aggressive e invasive, il sistema immunitario del corpo attacca i propri nervi. Cristo santo, arriva al sodo! Dopo che avrò trasferito il tuo costrutto nel tuo corpo, morirai. È inevitabile. È imminente. Avevate programmato tutto fin dall'inizio, vero? Non avevate alcuna intenzione di tenermi in vita? Che cazzo stai dicendo? Traditore figlio di puttana! Sei stato a guardare con il sorriso sulle labbra, aspettando che realizzassi che me l'hai messo nel culo fin dall'inizio! Farò finta di non aver sentito. Alt, una domanda. Il corpo rifiuterà il costrutto di Johnny? No, sono compatibili. Il corpo è suo. Grazie, Alt. Io e vi dobbiamo parlare. Non c'è niente di cui parlare. Ne ho abbastanza. Di tutto. Specialmente di te. Bene. Perché ci atteniamo al piano. Io me ne vado con Alt chissà dove. E tu ti tieni il tuo corpo. Dove hai intenzione di portarti? Oltre il Blackwall. Per divenire parte di lei, qualunque cosa significhi. Non c'è proprio un altro modo. Come ho detto, Johnny può tenere il corpo e restare. Mentre tu puoi venire con me. Intendevo, non so... Un finale migliore. Per tutti. Qui, per gente come noi. Posto sbagliato. Gente sbagliata. Ma hai il diritto di fare la scelta che ti sei guadagnato. Con volontà e impegno. Questo ponte porta nelle profondità del cyberspazio. Attraversandolo, taglierai per sempre ogni legame con il tuo corpo. La strada per il tuo corpo passa da quel pozzo mortale. Di nuovo normale. Ecco cosa voglio essere. Voglio vivere per il tempo che mi resta. Cristo, sto per cancellare un compagno e una parte della mia anima in un colpo solo. Non hai idea di come io mi sento di merda. Questo atteggiamento mi ricorda qualcosa. Vedimi. Che ti piaccia o no, io resterò sempre con te. E non smetteremo mai di lottare. Addiovi e non smetteremo mai di lottare. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. In fumo, con danni stimati superiori al budget annuale di una piccola nazione. Ti sta bene, Arasaka? Come ci si sente a essere messi in ginocchio, eh? Niente paura, Playbay. La nostra meravigliosa vita a Night City non cambierà molto. E quando mai succede? Viviamo tra polvere e chimicio, però queste moriremo. Ma ora, per voi una notizia buona e una cattiva. Questa diga... me la ricordo bene. Appena conosciuti. Non sapevo cosa pensare di te allora. Adesso lo sai. Non mi strapperai confessioni e lacrime. Non contavo sulle lacrime. Ti conosco. Quello che penso di te non ha importanza. Domani saremo da un'altra parte. Ricominceremo da capo. Io e te. Chiedimelo allora. Non vedo l'ora. Preparati, Arizona. Stiamo arrivando. Guarda la città. Lì da qualche parte quei bastardi della Arasaka si chiedono come hanno fatto a perdere tutto. Un giorno lo capiranno. Ma noi saremo molto lontani. Avrei dovuto farlo tempo fa. Ora la vedo in modo diverso. Sulla città, sulla mia vita. La città dei sogni. Mi darei un calcione coglione all'idioto che ha detto sta stronzata. Panam. Dopo il Mikoshi. Dopo tutto quello che è successo. Sono felice. Di essere qui. Con te. E che ce ne andremo. Insieme. Di addio a Night City. Non lo rivedremo più. Prima mi dimentico di tutto, è meglio, eh? La città fa un sacco di false promesse. Alcune grandiose. Non credi? E sei fortunato se le vedi per quello che sono, prima di perdere tutto. Forse ora la fortuna è dalla nostra. Forse ce ne andiamo giusto in tempo. Credo di sì. Credo che sia così. È ora di rimediare ad alcune cose. Cazzo, Vi. Sanguini di nuovo. È solo un po' di sangue, Panam. Non è niente. Vi. Promettimelo. Appena saremo giù a sud, andremo dai miei contatti. Sistemeremo quello che c'è da sistemare. Non mi perderai, Panam. Promesso. Farai in tempo a stufarti di me. Sai cosa mi ha detto solo una volta? Che una persona è davvero libera una volta sola? Quando sa di non avere niente da perdere. Sì. Nei prossimi mesi, per noi sarà così. Non abbiamo niente da perdere e vivremo liberi. A proposito, il nostro piano? È tutto pronto e confermato. Presto incontreremo i nostri, faremo i bagagli e ce ne andremo. La strada non sarà facile. Ma se non mandiamo tutto a puttane, tra qualche ora saremo già oltre confine. Andiamocene. Certo. Ma Vi. Guarda bene la città per l'ultima volta. Voglio dire, se vuoi. Ti aspetto in macchina. Beh, Night City. Buonanotte e buona fortuna. Gentiluomo qual è? Yurinobu Arasaka ha confermato che sua sorella Anako è tra le vittime Pare che qualcuno abbia l'opportunità di sedersi sul trono della megacorporazione Intriso dai soliti litri di sangue, sudore e lacrime, ovviamente Quante stronzate Molti dei nostri sono già oltre confine, ci aspettano dall'altra parte E i souvenir del Mikoshi? Se ci avviciniamo al confine con tecnologie del genere ci fanno fuori senza pensarci due volte Abbiamo controllato, l'Arasaka sorveglia tutti i varchi Ma noi conosciamo una strada meno trafficata Ho appena realizzato Rieccomi qui a derubare l'Arasaka Non ti preoccupare, stavolta passeremo sotto il naso dei bastardi Speriamo I nuovi inizi non sono facili E tu lo sai bene C'è una cosa che mi mancherà di Night City Che cosa? Il cibo Il tie di Haywood sulla settima I pieroggi giù vicino al porto Sul serio? Lo capirei dopo aver viaggiato per un po' con noi Stavo pensando che tutto quello che potrebbe mancarmi viene via con me Cazzovi, ci sai fare con le parole Ma funziona, no? Dillo, di che funziona? Funziona, anche troppo Ora sei con me Penseremo a tutto e capiremo cosa fare con quella merda che hai in testa Lo so Ehi, Palam! Stai scappando da Night City o vai a prendere il tè da tua nonna? Muoviti o la tempesta ti raggiunge? Ma vaffanculo Meech, ehi! Ehi, vi! È bello sentirti, Chum, come va? Dammi un mese e sarò come nuovo Ve l'avevo detto che me la sarei cavata, no? E dai, Mitch, non eri così sicuro dopo il Mikoshi? Nessuno di noi lo era È rimasto a letto per settimane come un vegetale Sarebbe stato spacciato se solo le sue sinapsi non fossero state temprate dai Panzer durante la guerra Ma ha salvato il culo a tutti quanti Peccato che Sol non sia con noi O Teddy O Bobby Scorpion Ti avrebbero preso a calci dopo quella cazzata con il Panzer E poi ti avrebbero abbracciato fino a farti vomitare Lo so, Panam, lo so Ci hai dato la possibilità di ricominciare Non sputtaniamola Sono felice che tu sia con noi, V Ci vediamo presto Sento duro di ozono Anche con l'aria condizionata E la tempesta si avvicina Ok, siamo arrivati Per ora Ciao, Mitch Ehi, leviamoci dal cazzo al più presto, d'accordo? Ehi, come sta andando? È tutto pronto? Sì, quasi tutto Quindi l'hai trovato? Dove pensavamo che fosse? Tutto pronto e secondo i piani Puoi dirlo forte Torna quando sei pronto Discuteremo di tutti i dettagli Tutto pronto e secondo i piani Tutto recibano Abrappagame Tutto pronto e questo Ego Ego Tornare Grazie a tutti. No, è tutto pronto e al suo posto. Stavamo aspettando soltanto te. Ok, allora il piano, per l'ultima volta. Non passiamo da un barco ufficiale. Questo lo sai già, no? Usiamo un vecchio tunnel dei contrabbandieri. È abbandonato. Sta vicino al muro. Quindi avete trovato un buco nel muro. Astuto. Non proprio nel muro, ma sotto. È uno dei vecchi tunnel dei contrabbandieri. Per fortuna è ancora aperto. È stato duro trovarlo dopo tutti questi anni. Ma ora non ci ferma più nessuno. E non ci vedrà nessuno? Prima o poi le guardie di confine capiranno che c'è qualcosa che non va. Ma quando se ne renderanno conto, saremo già lontani. E la tempesta è una bella botta di culo. Coprirà le nostre tracce. Ci vorrà ben più di una tempesta per seminari corporativi. Hanno cose più importanti di cui preoccuparsi. E se così non fosse, che vengano a prenderci. Se ne pentiranno. Perfetto. E una volta attraversato, che faremo? Raggiungeremo il punto d'incontro con il resto dei nostri. E poi andremo tutti verso Tucson. E una volta lì, saremo a cavallo, giusto? Conosciamo le strade come le nostre tasche. E giù in Arizona abbiamo qualche vecchio favore da riscuotere. Anche se volessi, non ho nulla di cui preoccuparmi. Da oggi non è più tutto sulle tue spalle. Non sei più solo, Bi. Ti ci abituerai? È una bella sensazione. Mi sa che ora sono io in debito con te. Ah, non dire stronzate. Siamo tutti sulla stessa barca. E poi grazie a te abbiamo rubato tanta roba alla Rasaka da farci una cazzo di portaerei. Fidati. Sulla lista dei ricercati, vivi o morti, veniamo appena dopo di te. Beh, è ora di andare, prima che arrivi la tempesta. Noi ci siamo. Dopo di te e Panamma. Tutti pronti? Allora connettiti e vediamo di levare le telle. D'accordo. È il tuo nuovo inizio. Devi cominciare come un vero nomade. Al volante, pesa su laterale. Devi solo andare dritto, evitare le buche più grosse e non perdere gli altri, ok? Io mi occupo della Nitro. La miscela arriverà direttamente ai cilindri. Se non sincronizzo tutto manualmente, potremo saltare in aria. Maglio non rischiare. Cazzo. Mi è venuta in mente una cosa. Che c'è? Il muro di confine. Quando ero piccola non c'era. Non avrei mai potuto immaginarlo. Ma avevo la sensazione che il nord fosse tutto diverso. Che lì mi aspettassi un futuro luminoso. Credo di sapere come va avanti. Quando sei arrivata dall'altra parte e non hai cambiato nulla, hai pensato che la risposta era Night City e che tutto lì sarebbe cambiato. Sì. E sai anche come va a finire. Sto tornando proprio da dove tutto è iniziato. Cazzo. No. Sarà anche allo stesso posto, fisicamente. Ma tu sei completamente cambiata. Tutto sommato hai ragione. Botte. E questa banda di Marti. Pronto? Sono sempre pronto. Allora, accellera. Addirittura d'arrivo. A tutta velocità. Hanno lanciato i droni. Carol, Cassidy, muovetevi. Vado a Ovest e attivo i disturbatori. Mi hanno agganciato. Vado a Est per togliermi lì di dosso. In bocca al lupo. Ci vediamo dall'altra parte. La nitro è pronta. Di addio a Night City. È la tua ultima occasione. Non ho più niente da dirle. Attiva la pure. Sono nelle tue mani. Si balla. Proprio quello che volevi. Un nuovo inizio. Non rallentare. Non rallentare, Panam. Non ancora. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. È perfetto. Tutto a posto, Panam. Andiamo a casa. Non dimenticarti di fare un check-up ogni tanto. Se nell'isolamento entrano polvere e sporcizia, è finita. Certo, trovare un bisturi decente là fuori sarà difficile come dormire in un'hotella a quattro stelle. Quindi, perché non passi a trovarmi quando torni in città? Penso che potrei farti uno sconticino, in nome dei vecchi tempi. Vi, è vero quello che si dice, che vivi nelle terre selvagge insieme agli Aldecaldo. Ti ha dato di volta il cervello, vi? Non avevi già abbastanza guai, eh? Night City era troppo noiosa per te. E sta sloco. Sei pazzo, completamente pazzo. Solo, abbi cura di te, ok? Non fare idiozie. Perché non voglio andare un secondo funerale. Ogni modo, se tu volessi rivedere un volto amico, non dimenticarti di passare da Mama Wells, ok? Devi solo chiamarmi e ti preparo le mie cilachine speciali, solo per te. Guidatevi. Ehi là, vi! Da quanto tempo! Lasciami indovinare, sei ancora tra i migliori di tutta Night City? Eh, già, io ho lasciato il giro. Volevo chiamarti per ringraziarti. Di tutto. Solo dopo che mi sono lasciata tutto alle spalle, ho capito quanto io fossi depressa in quel periodo. Credimi, Vi, se dovessi avere l'occasione, vattene. Vattene e non guardare indietro. Il peso che ti togli dalle spalle, non so neanche descriverlo. D'accordo, basta sermoni. Stammi bene, amico. Ehi, Vi, senti, non credo che stasera tornerò al campo. È in arrivo una tempesta di sabbia, devo restare qui e aspettare. Volevo solo dirti che... So che non è la prima volta. Sai che i nostri piani saltano. Non immaginavo che essere il capo sarebbe stato così duro. Sembrava sempre facile visto da fuori. È che... Sono fortunata d'averti vi. Non puoi neanche immaginare quanto significhi per me. Come... Beh, devo andare. Mi farò perdonare. Promessa. Qui. Ehi. Cristo, quella nostra missione. Mi batte il cuore ancora adesso. Un branco di nomadi contro la rasaka. Voglio dire... Le probabilità erano tutte contro di noi. Non sapevo se ne saremmo usciti vivi. Ma ce l'abbiamo fatta. E sai perché? Perché sei stato tu a guidare l'assalto, Vi. Il mercenario più pazzo e pericoloso da Pacifica agli Appalaci. Non so cosa tu stia combinando, quali siano i tuoi piani. Ma ricorda, saremo sempre pronti a sfidare l'inferno per te, fratello. Alla prossima. Stammi bene. Devo ammetterlo, Vi. Sono colpita. Quando mi hai detto che volevi inseguire Hellman, ero sicura che saresti tornato in una sacca per cadabbi. E invece ce l'hai fatta. In genere non mi sbaglio sulle persone e sulle loro capacità. Sono curiosa di vedere che altro saprei fare. Se stai cercando un lavoro, sai dove trovarmi. Vi, ehi, senti un attimo. Alcuni ragazzi del distretto hanno regato un negozio con armi illegali. Le mozze, i pistoli stordenti, i bombolini, i brite. Gli ordini dall'alto sono di distruggere tutto. Ma pensavo che forse potrebbe esserci un modo più utile di usarle. Per una giusta causa. Non ho dimenticato quello che hai fatto per noi. Per me, Randy. La città ha bisogno di più persone come te. E farò in modo che siano equipaggiate. Consideralo un omaggio e ci vediamo. Ehi, sono Perales. Vi, ho qualcosa che ti interesserà. Ma prima di rassicurarti che nessuno ci ascolti. Ok. Allora, mia moglie, Elizabeth. Credo che sia coinvolta. Continuo a dire che dovrei prendermi più cura di me. Che dovrei prendere queste pillole. Dice che sono vitamine. Le ho fatte analizzare in laboratorio. E dicono che sono ok. Ma come faccio a sapere che non hanno falsificato i risultati? Quando hai un secondo, chiamami. Ok? E non dimenticarti di cancellare questo messaggio. Ciao, V. Ascolta, stavo pensando a te. Così ho fatto un giro di tarocchi. Lo so, la lettura non è così precisa senza averti davanti. Ma non ci vediamo da tanto. Io... Beh, una cosa tira l'altra. Sai cos'è uscito? Il carro, gli amanti e il sole. Sembra che nelle Bedlands ti attenda una buona vita. Buona fortuna, V. Sì, libero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.